Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Minusio e voglio mostrarvi un appartamento di due e mezzo locali situato al primo piano di uno stabile di quattro appartamenti in totale. Entriamo nell'appartamento e andiamo a vederlo più nel dettaglio. Varchiamo la porta d'ingresso e ci troviamo in questo corridoio adibito a cucina. L'appartamento è stato costruito nel 2012 e quindi recentissimo come costruzione. La cucina come vedete è appunto moderna e nuova, è completa di elettrodomestici A e G, forno, piano cottura, lavastoviglie, frigorifero, il piano in marmo, in marmo nero, tutto il mobile ha la luce a led che illumina appunto il piano cottura e andiamo ora a vedere la zona giorno. La zona giorno ha questa meravigliosa vista lago sulle montagne e ha accesso diretto a questo terrazzino di circa 5 metri quadri. Questa è la zona giorno. Il terrazzino, come dicevo, ha questa vista lago, il paraffetto in vetro è molto utile in questo caso perché offre la vista completa. E andiamo infine a vedere la zona notte e il bagno. Quindi torniamo indietro verso la porta d'ingresso e alla nostra sinistra troviamo la zona notte. Eccoci qui. Bagno, bagno formito di WC, lavabo e doccia. Troviamo poi un piccolo spazio utile come cabina armadio ed infine la camera matrimoniale. La camera matrimoniale con questa porta finestra, anche essa dà un piccolo affaccio sul verde delle montagne sul lago. È tutto, a risentirci, viverti.